La Dolomiti Bellunesi con i suoi oltre 400 tesserati e di riflesso più in generale il calcio in provincia compiono ulteriori passi in avanti per quanto concerne le strutture dedicate all'attività sportiva. In particolare l'avvio dei lavori a rasai per la posa del sintetico segue l'annunciato inizio tunnale delle opere di rifacimento dello stadio polisportivo di Belluno, ma non solo. Noi nei nostri obiettivi iniziali sportivi abbiamo creduto che il presupposto di avere una logistica adeguata fosse fondamentale. Siamo qui a rasai e qui stanno partendo i lavori per il nuovo campo sintetico. A sedico sono in fase di ultimazione i lavori per il sintetico che riguarda il campo di allenamento. A Belluno sono riusciti a coprire la cifra necessaria per l'intero investimento dell'adeguamento delle tribune. Altre iniziative abbiamo in corso. Particolarmente attenzionata è l'area di sedico, centro nevralgico della Dolomiti Bellunesi. È sempre più vicina a diventare una vera e propria cittadella dello sport. Noi abbiamo adesso già un progetto, uno studio di affettibilità anche avanzato per il completamento della parte delle tribune con la creazione di nuovi spogliatoi e soprattutto di una clubhouse. Abbiamo poi tutta un'area che è in parte comunale, in parte di proprietà privata di nostri dirigenti in cui esiste un progetto di massima priorizzazione di una serie di casette di ospitalità e anche un'ipotesi di creazione di una struttura, chiamiamola così, di supporto che possa fungere, per esempio, ospitare un centro di medicina dello sport.